A quanto pare, non basta più parlare romano, e tocca che sto blog lo traducemo in altre lingue. Se è capito che li truzzi so dappertutto, perfino in Olanda, che uno si pensava che c'estavano solo tulipani, formaggio e mulini a vento, tutti belli felici, a fasse canne da mattina a sera, e ogni tanto un Mondria, no al massimo un Van Gogh, quando proprio te senti fuori da testa. E invece? Ma me sa che purtroppo ama la pianta di ignoranza e di indifferenza, che manco si accorge che una fontana non è un cassonetto e che una roba è bella, attecchisce bene in ogni dove, come l'erbaccia che si non curi la iole, riciccia e se magna tutto. Come la superficialità, per cui da molte parti a settimane scorse si è detto che sta fontana sarebbe del famoso Gian Lorenzo Bernini, quando invece il Gianlo si è noce a messo mano per aiutare, e invece il disegno, l'idea e la fattura so del padre Pietro, che per carità, come padre sarà stato pure fiero che il figlio è diventato più famoso assai di lui, e se ne sta zitto, però ecco tanto per essere precisi. Ma la cosa più importante è quanto è bella e figa sta fontana qua, che pare quasi che sta a fornà, con l'acqua che l'ha riempita fino all'orlo, e sta già strabordà, come quando sta riempià la vasca da bagno, e poi ti metti a chattà su whatsapp, e ti ascordi, e poi oddio! E il motivo desta forma so due. Uno, che qua a pressione dell'acqua è bassa bassa, e quindi Bernini, padre, ha dovuto scavà, e non potendo usarli effetti speciali a squillo de tromba, de getti e spruzzi in artezza, ha scelto l'effetto speciale a basso continuo, gorgoglio de acqua che entra e scende da una barca che pare pare ma non affonna mai. Motivo numero due, dovete sapere che all'epoca Ertevere, che sta a diversi isolati da qui, non c'aveva ancora i muraglioni, e ogni quart volta che pioveva de brutto, il fiume straripava e s'allagavano le strade. E una volta nel 1598 c'è fu un'inondazione così tremenna che una barca dal fiume fu portata fino a quassù. E se dice che trent'anni dopo l'idea a Erberni gli venne proprio da lì, che per esse come sfonnate e piena d'acqua, sta fontana si chiamò Barcaccia. Ma gente più istruita dicheno che Barcaccia erano quei barche per trasportare i botti di vino, che c'avevano i fianchi a ribassati appunto per poter scaricar meglio i barili, come questa qua di Travertino che gli fa il verso. Come che sia, acqua o vino, l'idea è buona. E se uno, che aveva bevuto troppo vino, nulla capita, io direi di levagli il vino tanto per cominciare. E poi, ogni volta che c'è una partita di Garcio, chiude lo Trenta Museo e fai e fa un corso completo di arte Petruzzi, obbligatorio.